Ancora buone notizie per i pazienti ricoverati presso il reparto Covid Hospital di Agropoli ed ieri un'altra dimissione di un uomo classe 1959 originario di Stio Cilento che il risultato positivo al coronavirus è stato trasferito presso il Covid Hospital agropolese lo scorso 10 dicembre. Ricoverato in un primo momento nel reparto di malattie infettive è stato necessario trasferirlo dopo 13 giorni nel reparto di subintensiva dove è stato ricoverato per 14 giorni e poi nella giornata di ieri 6 gennaio dopo la negativizzazione completa dal virus è arrivata la bella notizia per le dimissioni dal reparto. Anche questo paziente classe 1959 ha malattie pregresse come il diabete mellito, ipertensione arteriosa ma nonostante ciò è riuscito a sconfiggere il virus.